Salvato da morte certa ancora prima di nascere è la straordinaria storia di un piccolo in pericolo di vita già nel grembo della mamma colpita da un ictus ischemico alla dodicesima settimana di gravidanza. La futura mamma è stata salvata all'ospedale del mare di Napoli grazie allo straordinario lavoro di un'equip multidisciplinare che ha deciso di intervenire con un intervento molto delicato. E' arrivata in pronto soccorso accompagnata dal marito inizialmente vigile, la futura mamma ha da subito mostrato sintomi preoccupanti una lieve paralisi al lato sinistro e una difficoltà a muovere gli arti. Di qui la decisione di procedere immediatamente ad una risonanza magnetica all'encefalo e ai vasi sanguigni. Immediata e terribile la diagnosi ischemia in atto causata dall'occlusione completa dell'arteria cerebrale media di destra. Un rapido e netto peggioramento dei sintomi considerata la progressione del quadro clinico dopo un breve consulto i medici hanno quindi deciso di trasferire la giovane paziente presso l'unità operativa complessa di neuroradiologia per sottoporla a un intervento urgente. I dati percentuali della letteratura medica non erano a favore della paziente invece tutti e due ce l'hanno fatta. Dopo vari giorni di ricovero è stata rimessa con un recupero pressoché completo del deficit neurologico e la gravidanza procede tuttora regolarmente. Una straordinaria storia è finita al meglio grazie a un lavoro di grande eccellenza e grazie all'impegno di tutto il personale a partire dal pronto soccorso, afferma il direttore generale Ciro Verdoliva.